10 secondi abbiamo il pad loro sono davanti a noi scusate ho il pad in 5 secondi e ci siamo pronto vediamo se come stanno craftando 22 secondi sono passati di qui proprio dove siamo andati noi vado al crafting ma non si vede il crafting però si sente ok non serve niente il pad credo un horizon distrutta metto un pad al volo per a 1 e le dietro si suicida si suicida si è suicidato mi spiega a te perché si è suicidato non l'ho capito magari è sbagliato pure hanno 10.000 punti altro team vostra la granata no 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 era mia era mia scusata devo chiamarla ma perché manca il mirino su sto spitfire cosa sta truffando la butta ti immagini il cripto si butta nel vuoto e prima di morire droppa tutta la roba mentre ancora sta ancora atterrando nel mare non lo avrei mai sharp hanno aperto l'airdrop ok possiamo il pad è pronto scanno uno spettato sulla sinistra esterno la casa ho preso non ho preso non ho preso uno scusami c'era proprio in mezzo al nulla vado a ucciderla spero mi uccidano ok mi hanno fatto fuori torno in ricopro il totem che è una posizione un po' fagiana non ho paura c'è un altro team là sotto sono due team sono due sotto si c'è un team che ha bollato un horizon che vola ok arrivo da voi sono altre due squadre l'intera squadra sono tre team erano mi sa arrivo guarda che slide guarda che slide sto guardando la porta io mi dovrei illare attraversando mi pushano tutti e tre qua porca miseria ma qua ma che su non erano delle cime è arrivato un'altra team nooo meno male che ero noccato chat mi si è impallato ma se c'è la corri 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 scusate o è un solo dell'altra team o è un'altra team madonna come hanno visto hanno aperto la porta e hanno detto bella raga full send forse io sono restabile non so bene scrolla verso di me dici che riesco no probabilmente no però era worth it provarci no 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 vabbè triple take ma non sta guardando vai 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 arrivo ti lascio un kit venice di me subito se vuoi sharp vabbè nel dubbio mi ha perso sharp è crashato scusa no no ci sono ah sorry grazie si scannati possiamo passare a nord volendo facciamoci la salita poi poi abbiamo anche la zipline ci guardano venite venite qua venite qua perché rischi io farei ok fare così ok perfect passi scannati c'è vanno verso di qua dove stiamo andando noi siamo di qua che più più tranqui frankie yes voglio 99 voglio qua c'è uno davanti alla porta fermo sì è un unico riusciamo a prendere qua tu sì tiro è la mia la nate sopra stanno scappando è mia la nizzo metti un po' uno fermo davanti alla porta aspetta che c'è aspetta che è uscito a sparare questo non andiamo invece di andare senza non serve non serve non serve non serve non serve scusate non volevo bloccarmi 99 oro era solo in una storia del della season 5 è stato nel drop sì 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 ma faceva pietà faceva faceva pietà no beccato era aveva faceva un danno in più per amma se non lo bad ma guarda la lamerata dell'anno perché non mi ha clambato io ho sbattuto contro l'antellina lì ma che tanto io posso andare anche qua tanto sono bombaranti li pushiamo questi qua dietro guarda a quel che ci arriviamo beh avanziamo ovviamente lì e mettiamo il totem il jump pad arrivo apri il jump pad però l'ho appena usato per salire 30 secondi è un problemino 30 secondi andiamo scanno mancano 20 secondi al pad yes lo mettiamo qua vabbè se non ci sono meglio 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 qua dentro mettilo dentro qua nell'angolino che è un po' coperto sia dietro che davanti sei vai se lo metti vogliamo ok non ho lo scan ho scannato dietro per vedere ma siamo safe metta pronto scanno in 11 il tizio col charge era in cima perché sti già un po' i morial top top il blood ha capito il blood ha rendito un'altra sopra il top crackata ultro scan facciamo poi in cima è silenziata è silenziata ha ultrato anche il loro blood crackata la horizon in cima si erano abatto uno crackata sono due low sono entrati dentro crackato il blood ti escono tutti sono tutti low morti tutti ottimo ottimo ma io ho tirato una ferma e non hai sparito dove si ok sto rischiando un botto cos'è sto rumore non lo so stavo pensando pure io ma sembra ok credo siano io ho tirato una ferma e non ce l'ho nell'inventario ma non è caduta per terra tipo pensavo fosse la mia carabina che si caricava buggata c'è una red anche non so se la preferisci ho 10 battery mannaggia ma c'ho troppa roba adesso mi spieghi cosa odi della red perché se non hai le batterie ci metti un anno con le celle bene le avevi le batterie hai 4 bat no lo so o avevi 12 batterie se ti è proprio interessata però ci hanno scannato qua davanti arrivo raga siete molto più avanti stavo riguardando ho la zest 42 viola è un octane probabilmente un solo probabilmente un solo 11 viola se tu hai la ulti gli saltiamo in testa se tu hai la ulti gli saltiamo in testa ce la facciamo se un octane era un solo questo è l'ultimo team da fare io lo proverai così anch'io il pad c'è ma che tra dove mi ha preso la ulti la devo mettere dietro il carro armato che la metto il pad è lì andiamo questo non se lo aspettano nessuno si aspetta perfetto l'inquisizione spagnola uno è andato bloccato un altro dove vuole andare i tuoi arti tutti manca l'ultimo in solo abbiamo vinto ok era verso west ok sta volando in cielo ah si non lo so vabbè sarà felice della top 2 si ha detto beh vado tanto sai ci sono i no che mi unisco ciao 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 Grazie a tutti.